Ecci qua, ciao ragazzi, buongiorno a tutti, oggi vi mostro contatti secondi e adesso andiamo a rimuttare La regina del Guento Qui si può usare anche come canalina, basta togliere la chiusa Qui c'è lo scolo dell'acqua Questa canalina è impostata con la vasca con doppia pendenza Vedete? Perché il materiale dentro ha bisogno di più tempo per lavarsi che di scaricare dato che qui c'è anche l'acqua che agevola poi il movimento dei sassi e della sabbia Qui invece no e si va a fermare, quindi la pendenza è differente Pochi usano questa tecnica E volendo si può anche regolare leggermente Ok? 1,10 m di lunghezza per 24 cm Questa è una delle idee ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti